L'intervista a Vladimir Putin che state per vedere ed ascoltare è stata registrata il 6 febbraio 2024 a Mosca dal giornalista americano Tucker Carlson. Tradurre questo contenuto non significa condividerne il messaggio, ma semplicemente renderlo fruibile anche a chi non comprende l'inglese. Uno dei pilastri su cui si regge l'intero sistema valoriale occidentale è la garanzia della libertà di espressione e la lotta alla censura di idee, pensieri e opinioni. Dimostriamo di essere realmente diversi dai sistemi autocratici, dando a tutti la possibilità di formarsi una propria idea, ascoltando anche i punti di vista opposti ai nostri. È solo calandoci nel punto di vista degli altri che possiamo comprendere quale sia la loro visione del mondo e cosa li spinga ad agire in un certo modo o in un altro. Ed è solo con questa conoscenza che sarà possibile elaborare delle vere soluzioni alle problematiche attuali. Chiunque voglia esprimere consenso, dissenso o fare debunking di quanto segue, si senta libero di utilizzare questo contenuto come meglio crede. Vi chiedo solo di citare il canale di Imperium Aureum nelle descrizioni dei vostri video o estratti. Grazie. Quella che segue è un'intervista con il presidente della Russia, Vladimir Putin, ripresa il 6 febbraio 2024, intorno alle 19, nell'edificio dietro di noi, ovviamente il Cremlino. L'intervista, come vedrete se la guarderete, riguarda principalmente la guerra in corso, la guerra in Ucraina, come è iniziata, cosa sta succedendo e soprattutto come potrebbe finire. Un appunto prima che la guardiate. All'inizio dell'intervista abbiamo posto la domanda più ovvia. Perché lo ha fatto? Ha sentito una minaccia, una minaccia fisica imminente e questa è la sua giustificazione. E la risposta che abbiamo ricevuto ci ha scioccato. Putin ha parlato a lungo, probabilmente mezz'ora, della storia della Russia a partire dall'VIII secolo. E onestamente, abbiamo pensato che fosse una tecnica di ostruzionismo. E l'abbiamo trovata fastidiosa e lo abbiamo interrotto più volte. E lui ha risposto. Era infastidito dalle interruzioni. Ma alla fine abbiamo concluso, per quello che può valere, che non si trattava di una tecnica di ostruzionismo. Non c'erano limiti di tempo per la chiacchierata, l'abbiamo terminata dopo più di due ore. Ciò che state per vedere c'è invece sembrato sincero. Che siate d'accordo o meno, Vladimir Putin ritiene che la Russia abbia rivendicazioni storiche su parti dell'Ucraina occidentale. Quindi crediamo che si debba vederlo sotto questa luce come un'espressione sincera di ciò che pensa. Detto questo, eccolo qui. Signor Presidente, grazie. Il 22 febbraio 2022 si è rivolto al suo paese in un discorso alla nazione quando è iniziato il conflitto in Ucraina. E ha detto che agiva perché era giunto alla conclusione che gli Stati Uniti, attraverso la Nato, avrebbero potuto avviare, cito, un attacco a sorpresa al nostro paese. Agli ascoltatori americani è sembrato qualcosa di paranoico. Ci spieghi perché ritiene che gli Stati Uniti potrebbero colpire la Russia all'improvviso. Come è giunto a tale conclusione? Il punto non è che gli Stati Uniti avrebbero lanciato un attacco a sorpresa contro la Russia. Non ho detto questo. Stiamo facendo un talk show o una conversazione seria. È una sua citazione. Grazie. Faremo una conversazione seria. Perché, a quanto ho capito, lei ha una formazione di base in storia. Sì, quindi, se non le dispiace, mi prenderò solo 30 secondi o un minuto per darle un breve riferimento storico, per darle un po' di background storico. Per favore, lo faccia. Vediamo da dove è iniziato il nostro rapporto con l'Ucraina. Da dove viene l'Ucraina? Lo Stato russo ha iniziato a riunirsi come uno Stato centralizzato. E si ritiene l'862, l'anno della fondazione dello Stato russo. Cioè, quando i cittadini di Novgorod invitarono a regnare il principe Varangiano Rurik dalla Scandinavia. Nel 1862, la Russia celebrò il millesimo anniversario della sua indipendenza. E a Novgorod c'è un memoriale dedicato al millesimo anniversario del paese. Nell'882, il successore di Rurik, il principe Oleg, ricoprì effettivamente il ruolo di reggente presso il giovane figlio di Rurik. Poiché Rurik, a quel tempo era morto, venne a Kiev. Ha estromesso due fratelli, che apparentemente una volta erano stati membri della squadra di Rurik. Così, la Russia iniziò a svilupparsi con due centri di potere, Kiev e Novgorod. La successiva data molto significativa nella storia della Russia fu il 988. Fu il battesimo della Russia, quando il principe Vladimir, pronipote di Rurik, battezzò la Russia e adottò l'ortodossia, o cristianesimo orientale. Da questo momento, lo Stato russo centralizzato iniziò a rafforzarsi. Perché? Grazie al territorio unico, ai legami economici integrati, la stessa lingua. E dopo il battesimo della Russia, la stessa fede e governo del principe, lo Stato russo centralizzato cominciò a prendere forma. Nel Medioevo, il principe Yaroslav, il saggio, introdusse l'ordine di successione al trono. Ma dopo la sua morte, le cose si complicarono per vari motivi. Il trono non passò direttamente dal padre al figlio maggiore, ma dal principe deceduto al fratello, poi ai suoi figli in linee diverse. Tutto ciò portò alla frammentazione e alla fine della Rus come un unico Stato. Non c'era niente di speciale in questo. Lo stesso accadeva allora in Europa. Ma lo Stato russo frammentato divenne una facile preda per l'impero creato in precedenza da Gengis Khan. I suoi successori, vale a dire Batu Khan, saccheggiarono e rovinarono quasi tutte le città. La parte meridionale, compresa Kiev, tra l'altro, e alcune altre città, hanno semplicemente perso l'indipendenza, mentre le città del nord conservavano parte della loro sovranità. Dovettero rendere omaggio all'orda, ma riuscirono a preservare parte della loro sovranità. E poi cominciò a prendere forma uno Stato russo unificato con il suo centro a Mosca. La parte meridionale delle terre russe, inclusa Kiev, cominciò gradualmente a gravitare verso un altro magnete, il centro che stava emergendo in Europa. Questo era il Gran Ducato di Lituania, ed era anche chiamato Ducato russo-lituano perché i russi costituivano una parte significativa di questa popolazione. Parlavano l'antica lingua russa ed erano ortodossi. Ma poi ci fu l'unificazione, l'unione del Gran Ducato di Lituania e del Regno di Polonia. Pochi anni dopo, fu firmata un'altra unione. Ma questa volta, già nella sfera religiosa, alcuni sacerdoti ortodossi divennero subordinati al Papa. Così queste terre entrarono a far parte dello Stato polacco-lituano. Per decenni i polacchi furono impegnati nella colonizzazione di questa parte della popolazione. Hanno introdotto lì una lingua. Hanno cercato di radicare l'idea che questa popolazione non era esattamente russa, che poiché viveva ai margini, era ucraina. Originariamente, la parola ucraino significava che la persona viveva alla periferia dello Stato, ai margini, o era impegnata in un servizio di pattugliamento della frontiera. Non si riferiva ad alcun gruppo etnico in particolare. Quindi i polacchi cercarono in tutti i modi di colonizzare questa parte delle terre russe e in realtà la trattarono piuttosto duramente, per non dire crudelmente. Tutto ciò portò al fatto che questa parte delle terre russe cominciò a lottare per i suoi diritti. Hanno scritto lettere a Varsavia chiedendo che i loro diritti fossero rispettati e che le persone fossero inviate qui, anche a Kiev. Chiedo scusa, potrebbe dirci in quale periodo? Sto perdendo il filo di dove ci troviamo nella storia, nell'oppressione polacca dell'Ucraina. Era il tredicesimo secolo. Ora le racconterò cosa è successo più tardi, fornendo le date in modo che non ci sia confusione. E nel 1654, anche un po' prima, le persone che detenevano il potere su quella parte della terra russa, affrontarono la guerra, ripeto, chiedendo che fossero mandate ai governanti di origine russa e di fede ortodossa, ma Varsavia non rispose. E infatti respinse le loro richieste, si rivolse a Mosca affinché Mosca li portasse via. Per evitare che lei pensi che sto inventando le cose le darò dei documenti. Beh, non mi sembra che se le stia inventando, e non capisco per quale motivo dovrebbe essere rilevante per quello che è successo due anni fa. In ogni caso, questi sono dei documenti d'archivio, delle copie. Ecco le lettere di Bodan Kemelnitsky, l'uomo che allora controllava quella parte delle terre russe, che ora si chiama Ucraina. Scrisse a Varsavia chiedendo che i loro diritti fossero rispettati. E dopo essere stato rifiutato, iniziò a scrivere lettere a Mosca, chiedendo di prenderli sotto la mano forte dello zar di Mosca. Esistono copie di questi documenti. Glieli lascerò come ricordo. C'è una traduzione in russo. Può tradurlo in inglese dopo. Ma la Russia non acconsentì ad accoglierli subito, partendo dal presupposto che sarebbe scoppiata una guerra con la Polonia. Tuttavia, nel 1654, l'Assemblea russa dell'Alto Clero e dei proprietari terrieri, guidata dallo zar, che era l'organo rappresentativo del potere dell'antico Stato russo, decise di includere una parte delle antiche terre russe nel regno di Mosca. Come previsto, iniziò la guerra con la Polonia. Durò 13 anni. E poi, nel 1654, fu conclusa una tregua. E 32 anni dopo, fu firmato un trattato di pace con la Polonia, che chiamarono pace eterna. E queste terre, l'intera riva sinistra del Dnepr, inclusa Kiev, andarono alla Russia. E l'intera riva destra del Dnepr rimase in Polonia. Sotto il governo di Caterina la Grande, la Russia riconquistò tutte le sue terre storiche, anche a sud e a ovest, e ciò durò fino alla rivoluzione. Prima della Prima Guerra Mondiale, lo Stato Maggiore Austriaco faceva affidamento sulle idee dell'ucrainizzazione e iniziò a promuovere attivamente le idee dell'Ucraina e dell'ucrainizzazione. Il motivo era ovvio. Poco prima della Prima Guerra Mondiale, si voleva indebolire il potenziale nemico e assicurarsi condizioni favorevoli nella zona di confine. Così l'idea, emersa in Polonia, secondo cui le persone residenti in quel territorio non sarebbero realmente russi, ma appartenessero piuttosto ad un gruppo etnico speciale, gli ucraini, iniziò ad essere diffusa dallo Stato Maggiore Austriaco. Già nel XIX secolo apparvero i teorici che chiedevano l'indipendenza dell'Ucraina. Tutti però sostenevano che l'Ucraina dovesse avere ottimi rapporti con la Russia. Insistettero molto su questo. Dopo la rivoluzione del 1917, i bolscevichi cercarono di ripristinare lo Stato e iniziò una guerra civile, comprese le ostilità con la Polonia. Nel 1921 fu proclamata la pace con la Polonia e in base a quel trattato, la riva destra del fiume Dnepr fu nuovamente restituita alla Polonia. Nel 1939, dopo che la Polonia collaborò con Hitler, ha collaborato con Hitler, lo sa, vero? Hitler ha offerto alla Polonia la pace e un trattato di amicizia. Un'alleanza che chiedeva in cambio che la Polonia restituisse alla Germania il cosiddetto corridoio di Danzica, che collegava la maggior parte della Germania con la Prussia orientale e Konigsberg. Dopo la prima guerra mondiale questo territorio fu ceduto alla Polonia e invece di Danzica è emersa la città di Gdansk. Hitler chiese loro di darlo amichevolmente, ma loro rifiutarono. Continuarono a collaborare con Hitler e ad impegnarsi insieme nella spartizione della Cecoslovacchia. Ma posso chiederle, lei sta sostenendo che l'Ucraina, alcune parti dell'Ucraina, l'Ucraina orientale, è in effetti parte della Russia da centinaia di anni. Perché non se l'è presa quando è diventato presidente 24 anni fa? Voi avete armi nucleari, loro no. Se è una sua terra perché ha aspettato così a lungo. Glielo dirò, ci sto arrivando. Questa digressione sta per finire. Può risultare noiosa, ma spiega molte cose. Non è noiosa, solo che non capisco quanto possa essere rilevante. Bene, bene. Sono felice che la interessi. Grazie. Quindi prima della seconda guerra mondiale la Polonia collaborò con Hitler e pur non accettando le richieste di Hitler partecipò comunque alla spartizione della Cecoslovacchia insieme a Hitler. Dato che i polacchi non cedettero il corridoio di Danzica alla Germania ed andarono troppo oltre, spinsero Hitler a iniziare la seconda guerra mondiale attaccandoli. Perché fu proprio la Polonia lo stato contro cui iniziò la guerra il primo settembre 1939? La Polonia si rivelò intransigente e Hitler non poté fare altro che iniziare ad attuare i suoi piani con la Polonia. A proposito, l'Unione Sovietica, ho letto alcuni documenti d'archivio, si comportò in modo molto onesto e chiese alla Polonia il permesso di far transitare le sue truppe attraverso il territorio polacco per aiutare la Cecoslovacchia. Ma l'allora ministro degli esteri polacco disse che se gli aerei sovietici avessero sorvolato la Polonia sarebbero stati abbattuti sul territorio polacco. Ma non importa. Ciò che conta è che la guerra iniziò e la Polonia cadde preda delle politiche che aveva perseguito contro la Cecoslovacchia. In base al noto patto Molotov-Ribbentrop, una parte del territorio polacco, compresa l'Ucraina occidentale, doveva essere ceduta alla Russia. Così la Russia, che allora si chiamava Unione Sovietica, riconquistò le sue terre storiche. Dopo la vittoria nella Grande Guerra Patriottica, che è il nome che diamo noi alla Seconda Guerra Mondiale, tutti quei territori furono infine consacrati come appartenenti alla Russia, all'URSS. Quanto alla Polonia, essa ricevette, apparentemente in compenso, le terre originariamente tedesche. Le parti orientali della Germania. Queste sono ora le terre occidentali della Polonia. Naturalmente, la Polonia ha riacquistato l'accesso al Mar Baltico e a Danzica, a cui è stato dato ancora una volta il nome polacco. Quindi fu così che si sviluppò questa situazione. Nel 1922, quando venne fondata l'URSS, i bolshevichi iniziarono a costruire l'URSS e fondarono l'Ucraina sovietica, che prima non era mai esistita. Giusto? Stalin insistette affinché quelle repubbliche fossero incluse nell'URSS come entità autonome. Per qualche ragione inspiegabile, Lenin, il fondatore dello Stato sovietico, insistette affinché avessero il diritto di ritirarsi dall'URSS. E ancora, per ragioni sconosciute, trasferì alla neonata Repubblica Sovietica di Ucraina alcune terre, insieme alle persone che vi abitavano, anche se quelle terre non erano mai state chiamate Ucraina. Eppure facevano parte di quella Repubblica Sovietica di Ucraina. Queste terre includevano la regione del Mar Nero, che fu ricevuta sotto Caterina la Grande e che non aveva alcun legame storico con l'Ucraina. Anche se risaliamo al 1654, quando queste terre tornarono all'impero russo, quel territorio aveva le dimensioni di tre o quattro regioni della moderna Ucraina, senza la regione del Mar Nero. Questo era completamente fuori questione. Nel 1654. Esattamente. È solo che lei ovviamente ha una conoscenza enciclopedica di questa regione. Ma perché, per i primi 22 anni da presidente, non ha sostenuto che l'Ucraina non fosse un vero paese? All'Unione Sovietica venne assegnata una grande quantità di territorio che non le era mai appartenuto, compresa la regione del Mar Nero. Ad un certo punto, quando la Russia li ricevette come risultato delle guerre russo-turche, furono chiamati Nuova Russia o un'altra Russia. Ma non importa. Ciò che conta è che Lenin, il fondatore dello Stato sovietico, abbia fondato l'Ucraina in questo modo. Per decenni, la Repubblica Sovietica Ucraina si è sviluppata come parte dell'URSS. E per ragioni sconosciute, ancora una volta, i bolshevichi si impegnarono per l'ucrainizzazione. Non era semplicemente perché la leadership sovietica era composta in gran parte da persone originarie dell'Ucraina. Piuttosto, ciò si spiegava con la politica generale di indigenizzazione perseguita dall'Unione Sovietica. Le stesse cose furono fatte in altre repubbliche sovietiche. Ciò implicava la promozione delle lingue e delle culture nazionali, il che, in linea di principio, non è un male. Così venne creata l'Ucraina sovietica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, oltre ai territori che prima della guerra appartenevano alla Polonia, l'Ucraina ricevette anche parte dei territori che prima appartenevano all'Ungheria e alla Romania. Così, alla Romania e all'Ungheria, alcune delle loro terre furono portate via e cedute all'Ucraina sovietica. Quindi, in questo senso, abbiamo tutte le ragioni per affermare che l'Ucraina è uno stato artificiale, formato per volontà di Stalin. Crede che l'Ungheria abbia il diritto di riprendersi la sua terra dall'Ucraina e che le altre nazioni abbiano il diritto di tornare ai propri confini del 1654? Non sono sicuro se debbano tornare ai confini del 1654. Ma, visti i tempi di Stalin, il cosiddetto regime di Stalin, che, come molti sostengono, ha visto numerose violazioni dei diritti umani e violazioni dei diritti di altri stati, si può dire che potrebbero reclamare quelle loro terre senza averne il diritto. È quantomeno comprensibile. Ha detto a Viktor Orban che può avere parte dell'Ucraina? Mai. Non gliel'ho mai detto. Nemmeno una volta. Non ne abbiamo nemmeno mai parlato. Ma, in realtà, so per certo che gli ungheresi che vivono lì volevano tornare nella loro terra storica. Inoltre, vorrei condividere con voi una storia molto interessante. Sto divagando un attimo. È una vicenda personale. Più o meno all'inizio degli anni Ottanta, ho fatto un viaggio in macchina dall'allora Leningrado, attraverso l'Unione Sovietica, passando per Kiev. Ho fatto tappa a Kiev e poi siamo andati nell'Ucraina occidentale. Sono andato nella città di Beregovoy e tutti i nomi delle città e dei villaggi erano in russo e in una lingua che non capivo, in ungherese, in russo e in ungherese, non in ucraino, in russo e in ungherese. Stavamo passando attraverso una specie di villaggio e c'erano uomini seduti accanto alle loro case e indossavano abiti neri a tre pezzi e cappelli a cilindro neri. Ho chiesto, sono tipo degli animatori? Mi è stato detto di no. Non erano animatori. Erano ungheresi. Ho detto, cosa ci fanno qui? Cosa intendi? Questa è la loro terra. Vivono qui. Ciò avvenne durante il periodo sovietico negli anni Ottanta. Hanno conservato la lingua ungherese, i nomi ungheresi e tutti i loro costumi nazionali. Sono ungheresi e si sentono ungheresi. E naturalmente quando ora c'è un'infrazione... Di situazioni del genere ve ne sono molte. Tipo, penso che molte nazioni siano arrabbiate per la Transilvania, come ovviamente lei sa. Ma molte nazioni si sentono frustrate dai confini ridisegnati dalle guerre del ventesimo secolo e dalle guerre che risalgono a mille anni fa, quelle che ha menzionato. Ma il fatto è che lei non ha mai reso pubblico questo caso fino a due anni fa, a febbraio. E in ciò che ha detto, che leggo oggi, lei spiega ampiamente che ha avvertito una minaccia fisica da parte dell'Occidente nella Nato, inclusa una potenziale minaccia nucleare. Ed è questo che l'ha spinta a muoversi. È una descrizione corretta di ciò che ha detto? Capisco che i miei lunghi discorsi probabilmente non rientrano nel tema dell'intervista. Ecco perché all'inizio le ho chiesto, faremo una conversazione seria o uno spettacolo. Lei ha detto, un discorso serio. Quindi abbia pazienza, per favore. Stiamo arrivando al punto in cui è stata fondata l'Ucraina sovietica. Poi, nel 91, l'Unione sovietica è crollata e tutto ciò che la Russia aveva generosamente concesso all'Ucraina è stato portato via da quest'ultima. Arrivo ad un punto molto importante per l'agenda di oggi. Dopotutto, il crollo dell'Unione sovietica è stato effettivamente avviato dalla leadership russa. Non capisco cosa auspicasse la leadership russa in quel momento, ma sospetto che ci fossero diverse ragioni per pensare che tutto sarebbe andato bene. In primo luogo, penso che allora la leadership russa credesse che i fondamenti della relazione tra Russia e Ucraina fossero in realtà un linguaggio comune. Più del 90% della popolazione parlava russo. Legami familiari. Una persona su tre aveva qualche tipo di legame familiare o di amicizia. Cultura comune, storia comune, infine, fede comune, convivenza secolare con un unico Stato ed economie profondamente interconnesse. Tutto ciò era fondamentale. Tutti questi elementi insieme rendono inevitabili le nostre buone relazioni. Il secondo punto è molto importante. Voglio che lei, come cittadino americano, e i suoi spettatori ne veniate a conoscenza. L'ex leadership russa riteneva che l'Unione sovietica avesse cessato di esistere e quindi non esistessero più linee di divisione ideologiche. La Russia ha addirittura consentito volontariamente e in modo proattivo al crollo dell'Unione sovietica, credendo che ciò sarebbe stato interpretato dal cosiddetto Occidente civilizzato come un invito alla cooperazione e all'associazione. Questo è ciò che la Russia si aspettava, sia dagli Stati Uniti che dal cosiddetto Occidente collettivo. C'erano persone intelligenti, tra cui in Germania, Egon Barr, un importante politico del Partito Socialdemocratico, che nei suoi colloqui personali con la leadership sovietica sull'orlo del crollo dell'Unione sovietica, insisteva sul fatto che sapevano che dovevano essere istituiti sistemi di sicurezza in Europa. Bisognava aiutare la Germania unificata, ma si doveva anche istituire un nuovo sistema che includesse Stati Uniti, Canada, Russia e altri paesi dell'Europa centrale. Ma la Nato non deve espandersi, è quello che ha detto. Se la Nato si espandesse, tutto diventerebbe come durante la Guerra Fredda, solo più vicino ai confini della Russia. Ed è tutto. Era un anziano saggio, ma nessuno lo ascoltava. In effetti, si arrabbiò una volta. Se non mi ascoltate, disse, non metterò mai più piede a Mosca. Tutto è successo proprio come aveva detto. Naturalmente si è avverato tutto. E sia io che lei lo abbiamo più volte menzionato. Penso che sia un buon punto. E molti in America pensavano che le relazioni tra Russia e Stati Uniti sarebbero andate bene con il crollo dell'Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda. È accaduto il contrario. Ma non ha mai spiegato perché lei pensa che ciò sia accaduto, se non dicendo che l'Occidente teme una Russia forte. Ma abbiamo una Cina forte di cui l'Occidente non sembra avere molta paura. che cosa crede che abbia convinto i politici della necessità di dovere abbattere la Russia? L'Occidente ha paura di una Cina forte più di quanto tema una Russia forte, perché la Russia conta 150 milioni di persone e la Cina ha un miliardo e mezzo di abitanti e la sua economia sta crescendo a passi da gigante, pari al 5% annuo. Prima era ancora di più, ma per la Cina basta. Come disse una volta Bismarck, i potenziali sono più importanti. Il potenziale della Cina è enorme. Oggi è la più grande economia del mondo in termini di parità di potere d'acquisto e dimensioni dell'economia. Sta già superando gli Stati Uniti da molto tempo e sta crescendo rapidamente. Non parliamo di chi ha paura di chi. Non ragioniamo in questi termini. E veniamo al fatto che dopo il 91, quando la Russia si aspettava di essere accolta nella famiglia fraterna delle nazioni civili, non è successo niente del genere. Ci avete ingannato. Non intendo te personalmente. Ovviamente sto parlando degli Stati Uniti. La promessa era che la Nato non si sarebbe espansa verso est, ma è successo ben 5 volte. Ci sono state 5 ondate di espansione. Abbiamo tollerato tutto ciò. Stavamo cercando di convincerli. Dicevamo, per favore non lo fate. Ora siamo borghesi quanto voi. Siamo un'economia di mercato e non esiste il potere del Partito Comunista. Negoziamo, l'ho già detto pubblicamente in precedenza. C'è stato un momento in cui una certa spaccatura ha iniziato a formarsi tra noi. Prima di ciò, Yeltsin venne negli Stati Uniti. Ricordate, ha parlato al Congresso e ha detto delle buone parole, Dio benedica l'America. Tutto ciò che disse erano segnali fateci entrare. Ricordate gli sviluppi precedenti in Jugoslavia? Yeltsin fu sommerso di elogi. Non appena iniziarono gli sviluppi in Jugoslavia, alzò la voce a sostegno dei serbi. E non potevamo che alzare la voce a favore dei serbi in loro difesa. Capisco che lì fossero in corso avvenimenti complessi, ma la Russia non ha potuto fare a meno di alzare la voce a sostegno dei serbi. Perché anche i serbi sono una nazione speciale e vicina a noi, con la cultura ortodossa e così via. È una nazione che ha sofferto così tanto per generazioni. Beh, a prescindere. Ciò che è importante è che Yeltsin abbia espresso il suo sostegno. Cosa hanno fatto gli Stati Uniti? In violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, hanno cominciato a bombardare Belgrado. Sono stati gli Stati Uniti a far uscire il genio dalla lampada. Inoltre, quando la Russia ha protestato ed espresso il suo risentimento, cosa è stato detto? La Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale sono diventati obsoleti. Adesso tutti invocano il diritto internazionale, ma allora cominciarono a dire che tutto era superato. Tutto doveva essere cambiato. In effetti, alcune cose devono essere cambiate poiché gli equilibri di potere sono cambiati. È vero, ma non in questo modo. Yeltsin fu subito trascinato nel fango, accusato di alcolismo, di non capire nulla, di non sapere nulla. Aveva capito tutto, te lo assicuro. Ebbene, sono diventato presidente nel 2000. Ho pensato, ok, la questione jugoslava è finita, ma dovremmo cercare di ristabilire le relazioni. Riapriamo la porta che la Russia aveva tentato di varcare. E del resto l'ho detto pubblicamente. Posso ribadirlo. In un incontro qui al Cremlino con il presidente uscente Bill Clinton, proprio qui nella stanza accanto, gli ho detto, gli ho chiesto, Bill, pensi che se la Russia chiedesse di aderire alla Nato, pensi che accadrebbe? All'improvviso disse, sai, è interessante, credo di sì. Ma la sera, quando ci siamo incontrati a cena, ha detto, sai, ho parlato con la mia squadra. No, adesso non è possibile. Potete chiedere a lui, penso che guarderà la nostra intervista, lo confermerà. Non avrei detto una cosa del genere se non fosse successo. Ok, beh, adesso è impossibile. Era sincero? Sarebbe entrato nella Nato? Guardi, ho fatto una domanda. È possibile o no? E la risposta che ho ricevuto è stata un no. Se non fossi sincero nel mio desiderio di scoprire quale fosse la posizione di leadership… Ma se avessero detto di sì, sarebbe entrato nella Nato? Se avesse detto sì, il processo di riavvicinamento sarebbe iniziato e alla fine ciò sarebbe potuto accadere se avessimo visto una qualche intenzione sincera da parte dei nostri partner. Ma non è successo. Beh, no significa no. Ok, va bene. Perché pensa che sia andata così? Per quale motivo? Lo so, è chiaramente amareggiato per questo. Capisco. Ma perché pensa che l'Occidente l'abbia respinta allora? Perché l'ostilità? Perché la fine della guerra fredda non ha risolto il rapporto? Cosa motiva tutto questo dal suo punto di vista? Ha detto che ero amareggiato per la risposta. No, non è amarezza. È solo la constatazione dei fatti. Non c'è stato alcun matrimonio, amarezza, risentimento. Non si tratta di queste cose in tali circostanze. Ci siamo semplicemente resi conto che lì non eravamo i benvenuti. Tutto qui. Ok, bene. Ma costruiamo le relazioni in un altro modo. Cerchiamo un terreno comune altrove. Perché abbiamo ricevuto una risposta così negativa, dovreste chiederlo ai vostri leader. Posso solo immaginare il perché. Un paese troppo grande, con le proprie opinioni e così via. E negli Stati Uniti ho visto come vengono risolti i problemi nella Nato. Vi darò ora un altro esempio riguardante l'Ucraina. La leadership statunitense esercita pressioni e tutti i membri della Nato votano obbedientemente, anche se non gli piace qualcosa. Ora vi racconterò cosa è successo a questo proposito con l'Ucraina nel 2008. Anche se se ne sta discutendo, non vi svelerò un segreto. Non è nulla di nuovo. In ogni caso, cerchiamo di costruire le relazioni in diversi modi. Ad esempio, durante gli eventi in Medio Oriente, in Iraq, stavamo costruendo relazioni con gli Stati Uniti in modo molto morbido, prudente e cauto. Ho ripetutamente sollevato la questione che gli Stati Uniti non dovrebbero sostenere il separatismo o il terrorismo nel Caucaso settentrionale. Ma continuano comunque a farlo. E il sostegno politico, di informazioni, finanziario e persino militare, veniva dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti ai gruppi terroristici nel Caucaso. Una volta ho sollevato la questione con il mio collega, anche lui presidente degli Stati Uniti. Diceva che era impossibile. Hai delle prove? Ho detto di sì. Ero preparato per questa conversazione e gli ho dato le prove che avevo. Le guardò e sai cosa disse? Mi scuso, ma è quello che è successo. Cito, disse, beh, li prenderò a calci in culo. Abbiamo aspettato e aspettato qualche risposta. Non ci fu risposta. Ho detto al direttore dell'FSB, scrivi alla CIA. Qual è il risultato della conversazione con il presidente? Ha scritto una, due volte. E poi abbiamo ricevuto una risposta. Abbiamo la risposta nell'archivio. La CIA ha risposto. Noi abbiamo lavorato con l'opposizione in Russia. Crediamo che questa sia la cosa giusta da fare e continueremo a farlo. È semplicemente ridicolo. Allora ok, ci siamo resi conto che era inutile parlarne. Forze antagoniste al suo governo. Quindi sta dicendo che la CIA sta cercando di rovesciare il suo governo? Naturalmente in quel caso si riferivano ai separatisti, ai terroristi che hanno combattuto con noi nel Caucaso. Così chiamano l'opposizione. Questo è il secondo punto. Il terzo è molto importante. È il momento in cui venne creato inizialmente il sistema di difesa missilistico statunitense. Per molto tempo li abbiamo persuasi a non farlo negli Stati Uniti. Inoltre, dopo essere stato invitato da Bush Senior a visitare la sua casa sull'oceano, ho avuto una conversazione molto seria con il presidente Bush e la sua squadra. Propongo che Stati Uniti, Russia ed Europa creino congiuntamente il sistema di difesa missilistica che, a nostro avviso, se creato senza di noi, minaccerebbe unilateralmente la nostra sicurezza. Gli Stati Uniti affermarono ufficialmente di volerlo creare contro le minacce missilistiche dell'Iran. Questa era la giustificazione per la realizzazione del sistema di difesa missilistica. Ho suggerito di lavorare insieme. Russia, Stati Uniti ed Europa. Hanno detto che era molto interessante. Mi hanno chiesto, sei serio? Ho detto, assolutamente. Posso chiederle che anno era? Non ricordo. È facile trovarlo su internet. Quando ero negli USA su invito di Bush Senior, è ancora più facile saperlo da qualcuno di cui vi parlerò. Mi è stato detto che era molto interessante. Ho detto, immagina se potessimo risolvere insieme una sfida di sicurezza strategica globale di questo tipo. Il mondo cambierà. Probabilmente avremo controversie, probabilmente economiche e anche politiche. Ma potremmo cambiare drasticamente la situazione nel mondo. Mi dissero, sì. E mi chiese, sei serio? Allora ho detto, certo, dobbiamo pensarci. Andiamo avanti per favore. Poi il segretario alla difesa Gates, ex direttore della CIA e segretario di Stato Rice, sono entrati qui in questo gabinetto, proprio qui a questo tavolo. Ci siamo seduti a questo tavolo. Io, il ministro degli esteri, il ministro della difesa russo da quella parte, mi hanno detto, sì, ci abbiamo pensato, siamo d'accordo. Ho detto, grazie a Dio, fantastico. Ma con alcune eccezioni. Quindi, per due volte ha raccontato i presidenti degli Stati Uniti prendere decisioni e poi essere indeboliti dai capi delle loro agenzie. Quindi sembra che lei stia descrivendo un sistema che non è gestito dalle persone elette, da come lo racconta. Esatto, esatto. E poi ci hanno semplicemente detto di lasciar perdere. Non le dirò i dettagli perché penso che sia sbagliato. Dopotutto si trattava di una conversazione confidenziale, ma la nostra proposta è stata rifiutata. Questo è un fatto. Fu proprio allora che dissi. Guardate che poi saremo costretti a prendere contromisure. Creeremo sistemi di attacco che supereranno sicuramente i sistemi di difesa missilistica. La risposta è stata, non lo stiamo facendo contro di voi e voi fate quello che volete. Ovviamente non contro di noi, non contro gli Stati Uniti. Ho detto, va bene, molto bene. È andata così e abbiamo creato sistemi ipersonici con portata intercontinentale e continuiamo a svilupparli. Ora siamo davanti a tutti, agli Stati Uniti e ad altri paesi, in termini di sviluppo di sistemi d'attacco ipersonici e li stiamo migliorando ogni giorno. Ma non l'abbiamo voluto noi. Abbiamo proposto di andare oltre e siamo stati respinti. Ora parliamo dell'espansione della Nato a est. Bene, ci era stato promesso che non ci sarebbe stata la Nato a est, nemmeno un centimetro a est, come ci era stato detto. E poi cosa è successo? Hanno detto, beh, non è su nessuna carta, quindi ci espanderemo. Quindi ci furono cinque ondate di espansione, gli Stati Baltici, l'intera Europa orientale e così via. E ora vengo alla cosa principale. Sono venuti in Ucraina. Alla fine, nel 2008, al vertice di Bucharest, dichiararono che le porte per l'adesione di Ucraina e Georgia alla Nato erano aperte. Ora, diciamo qualcosa su come vengono prese le decisioni lì. La Germania e la Francia sembravano contrarie, così come alcuni altri paesi europei. Ma poi, come si è scoperto più tardi, il presidente Bush, che è un tipo duro, un politico duro, come mi è stato detto più tardi, ha esercitato pressioni su di noi e abbiamo dovuto essere d'accordo. È ridicolo. È come l'asilo. Dove sono le garanzie? Che razza di asilo è questo? Che tipo di persone sono queste? Vede, sono stati pressati e ora sono d'accordo. E poi dicono che l'Ucraina non farà parte della Nato. Vede, dico che non lo so. So che eri d'accordo nel 2008. Perché non sarai d'accordo in futuro? Bene, se hanno insistito, allora dico, perché non dovrebbero incalzarti domani e renderti di nuovo d'accordo? Beh, non ha senso. Chi c'è con cui parlare? Proprio non capisco. Siamo pronti a parlare. Ma con chi? Dove sono le garanzie? Nessuna. Così hanno iniziato a sviluppare il territorio dell'Ucraina. Qualunque cosa ci sia, le ho raccontato in retroscena su ciò che avviene in questo territorio. Che tipo di relazioni? C'erano relazioni con la Russia. Due persone su tre hanno sempre avuto dei legami con la Russia. E durante le elezioni nella già indipendente Ucraina sovrana, che ha ottenuto la sua indipendenza a seguito della dichiarazione di indipendenza. A proposito, la dichiarazione dice che l'Ucraina è uno stato neutrale. E nel 2008, all'improvviso, le si sono aperte le porte o i cancelli della Nato. Oh, andiamo! Non è così che avevamo concordato. Tutti i presidenti che sono saliti al potere in Ucraina hanno fatto affidamento sull'elettorato con un atteggiamento morbido nei confronti della Russia, in un modo o nell'altro. Questo è il sud-est dell'Ucraina. Qui ci sono un gran numero di persone. Ed è stato molto difficile persuadere questo elettorato, che aveva un atteggiamento positivo nei confronti della Russia. Viktor Yanukovych è salito al potere. La prima volta che vinse, dopo il presidente Kuchma, organizzarono il terzo turno, che non è previsto dalla Costituzione ucraina. Questo è un colpo di Stato. Immagina solo che a qualcuno negli Stati Uniti non piaccia il risultato delle elezioni. Nel 2014? No, questo era prima. Dopo il presidente Kuchma, Viktor Yanukovych ha vinto le elezioni. Tuttavia, i suoi avversari non hanno riconosciuto quella vittoria. Gli Stati Uniti hanno sostenuto l'opposizione ed è stato programmato il terzo round. Ma cos'è questa roba? Questo è un colpo di Stato. Gli Stati Uniti lo hanno sostenuto e il vincitore del terzo round è salito al potere. Immaginate se negli USA qualcosa non andasse come vuole qualcuno e si organizzasse il terzo turno elettorale, che la Costituzione americana non prevede. Tuttavia, è stato fatto in Ucraina. Va bene. Viktor Yushchenko, che era considerato un politico filo occidentale, è salito al potere, ma abbiamo instaurato buoni rapporti anche con lui. È venuto a Mosca in varie visite. Abbiamo visitato Kiev. L'ho incontrato anche io. Ci siamo incontrati in un contesto informale. Se è filo occidentale, così sia. Va bene. Lasciamo che le persone facciano il loro lavoro. La situazione avrebbe dovuto svilupparsi all'interno della stessa Ucraina, indipendente come risultato della leadership di Kukma. Le cose peggiorarono e Viktor Yanukovych salì al potere. Forse non era il miglior presidente e politico, non lo so. Non voglio dare valutazioni. Tuttavia, è emersa la questione dell'associazione con l'Unione Europea. Siamo sempre stati favorevoli. Fate come preferite. Ma quando abbiamo letto il trattato di associazione, per noi si è rivelato un problema poiché avevamo la zona di libero scambio e le frontiere doganali aperte con l'Ucraina, che con questa associazione ha dovuto aprire i suoi confini per l'Europa, il che avrebbe portato alla inondazione del nostro mercato. Ma abbiamo detto, no, non funzionerà. Chiuderemo le frontiere con l'Ucraina e poi le frontiere doganali. Yanukovych ha iniziato a calcolare quanto l'Ucraina avrebbe guadagnato e quanto avrebbe perso e ha detto ai suoi partner europei, ho bisogno di più tempo per pensare prima di firmare. Nel momento in cui ha affermato ciò, l'opposizione ha iniziato a compiere passi distruttivi sostenuti dall'Occidente e tutto ha portato a Maidan e al colpo di Stato in Ucraina. Quindi l'Ucraina commerciava più con la Russia che con l'UE? Ovviamente. Non è nemmeno una questione di volume degli scambi, anche se nella maggior parte dei casi lo è. È una questione di dimensioni della cooperazione su cui si basa l'intera economia ucraina. I rapporti di cooperazione tra le imprese erano molto strette già dai tempi dell'Unione Sovietica. Sì, un'impresa lì produceva componenti da assemblare, sia in Russia che in Ucraina, e viceversa. Erano legami molto stretti. È stato commesso un colpo di Stato, anche se non entrerò nei dettagli ora perché trovo che ciò sia inappropriato. Gli Stati Uniti ci hanno detto, calmate Yanukovic e noi calmeremo l'opposizione. Lasciate che la situazione si evolva nello scenario di una soluzione politica. Abbiamo detto, va bene, siamo d'accordo, facciamo così. Come richiesto dagli americani, Yanukovic non ha utilizzato né le forze armate né la polizia. Eppure l'opposizione armata ha commesso un colpo di Stato a Kiev. Cosa dovrebbe significare? Chi credete di essere? Volevo chiedere all'allora leadership americana. Chi li ha sostenuti? Con il sostegno della CIA, ovviamente. L'organizzazione a cui lei voleva unirsi in passato, a quanto ho capito. Dobbiamo ringraziare Dio perché non l'hanno fatta entrare. Anche se è un'organizzazione seria, lo capisco. Erano il mio ex vis-à-vis, nel senso che ho prestato servizio nella prima direzione principale, il servizio di intelligence dell'Unione Sovietica. Sono sempre stati i nostri avversari. Un lavoro è un lavoro. Tecnicamente hanno fatto tutto bene. Hanno raggiunto il loro obiettivo di cambiare il governo. Tuttavia, dal punto di vista politico, è stato un errore colossale. Sicuramente si è trattato di un errore di calcolo da parte della leadership politica. Avrebbero dovuto prevedere in cosa si sarebbe evoluto. Così, nel 2008, per l'Ucraina si sono spalancate le porte della Nato. Nel 2014 c'è stato un colpo di Stato. Hanno iniziato a perseguitare coloro che non lo accettavano. Ed è stato davvero un colpo di Stato. Hanno creato una minaccia per la Crimea, che dovevamo prendere sotto la nostra protezione. Hanno lanciato una guerra nel Donbass nel 2014 con l'uso di aerei e artiglieria contro i civili. Questo è il momento in cui è iniziata. C'è un video di aerei che attaccano Donetsk dall'alto. Hanno lanciato un'operazione militare su larga scala, poi un'altra. Quando fallirono, iniziarono a preparare quella successiva. Tutto questo nel contesto dello sviluppo militare di questo territorio e dell'apertura delle porte della Nato. Come potevamo non preoccuparci per ciò che stava accadendo? Da parte nostra, questa sarebbe stata una negligenza colpevole. Ecco cosa sarebbe stato. È solo che la leadership politica statunitense ci ha spinto ad un limite che non potevamo oltrepassare perché, così facendo, avrebbe potuto rimetterci la stessa Russia. Inoltre, non potevamo lasciare i nostri fratelli di fede e di fatto una parte del popolo russo di fronte a questa macchina da guerra. Quindi, è successo otto anni prima che iniziasse l'attuale conflitto. Qual è stato il fattore per lei scatenante? Qual è stato il momento in cui ha deciso che doveva farlo? Inizialmente è stato il colpo di Stato in Ucraina a provocare il conflitto. A proposito, allora arrivarono i rappresentanti di tre paesi europei, Germania, Polonia e Francia. Erano loro i garanti dell'accordo firmato tra il governo Yanukovych e l'opposizione. Lo hanno firmato in qualità di garanti. Nonostante ciò, l'opposizione ha commesso un colpo di Stato e tutti questi paesi hanno fatto finta di non ricordare di essere garanti della soluzione pacifica. L'hanno buttato subito nel camino e nessuno lo ricorda più. Non so se gli Stati Uniti sappiano qualcosa di quell'accordo tra l'opposizione e le autorità e i suoi tre garanti che, invece di riportare tutta questa situazione in campo politico, hanno appoggiato il golpe. Anche se, credetemi, non aveva senso, poiché il presidente Yanukovych aveva accettato tutte le condizioni, era pronto a indire elezioni anticipate che non aveva alcuna possibilità di vincere. Francamente, questo lo sapevano tutti. Allora perché il colpo di Stato? Perché le vittime? Perché minacciare la Crimea? Perché lanciare un'operazione nel Donbass? Questo non lo capisco. Questo è esattamente l'errore di calcolo. La CIA ha fatto il suo lavoro per completare il colpo di Stato. Credo che uno dei vice segretari di Stato abbia detto che è costata parecchio denaro, quasi 5 miliardi. Ma l'errore politico è stato colossale. Perché farlo? Tutto questo avrebbe potuto essere fatto legalmente, senza vittime, senza azioni militari, senza perdere la Crimea. Non avremmo mai preso in considerazione l'idea di muovere un dito se non fosse stato per i sanguinosi sviluppi di Maidan. Perché eravamo d'accordo sul fatto che, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, i nostri confini dovessero coincidere con i confini delle ex repubbliche dell'Unione. Lo abbiamo concordato. Ma non abbiamo mai accettato l'espansione della Nato. E inoltre non abbiamo mai accettato che l'Ucraina entrasse nella Nato. Non abbiamo concordato la creazione di basi Nato lì, senza averne discusso prima con noi. Per decenni abbiamo continuato a chiedere, non fare questo, non fare quello. E cosa ha innescato gli ultimi eventi? In primo luogo, l'attuale leadership ucraina ha dichiarato che non avrebbe rispettato gli accordi di Minsk, firmati, come sapete, dopo gli eventi del 2014 a Minsk, dove era stato presentato il piano per una soluzione pacifica nel Donbass. Ma no, l'attuale leadership ucraina, il ministro degli esteri, tutti gli altri funzionari e poi lo stesso presidente, hanno affermato che a loro non piace nulla degli accordi di Minsk. In altre parole, non li avrebbero implementati. Un anno o un anno e mezzo fa, gli ex leader di Germania e Francia hanno dichiarato apertamente al mondo intero di aver sì firmato gli accordi di Minsk, ma di non aver mai avuto intenzione di attuarli. Ci hanno semplicemente preso per il naso. C'era qualcuno con cui poter parlare? Ha chiamato il presidente degli Stati Uniti o il segretario di Stato per avvertirli che se avessero continuato a militarizzare l'Ucraina con le forze NATO, sareste intervenuti? Ne abbiamo parlato continuamente. Abbiamo chiesto alla leadership degli Stati Uniti e dei paesi europei di fermare immediatamente questi sviluppi e di attuare gli accordi di Minsk. Francamente, non sapevo come avremmo fatto, ma ero pronto a implementarli. Questi accordi erano complicati per l'Ucraina. Includevano molti elementi sull'indipendenza di quei territori del Donbass. È vero. Tuttavia, ero assolutamente fiducioso e vi dico questo adesso. Credevo onestamente che se fossimo riusciti a convincere gli abitanti del Donbass e abbiamo dovuto lavorare duro per convincerli a tornare nello Stato ucraino, allora gradualmente le ferite si sarebbero rimarginate. Quando questa parte di territorio si fosse reintegrata nell'ambiente sociale comune, quando le pensioni e le prestazioni sociali sarebbero state nuovamente pagate, tutti i pezzi sarebbero tornati gradualmente al loro posto. No, nessuno lo voleva. Tutti volevano risolvere la questione solo con la forza militare, ma non potevamo permettere che ciò accadesse e la situazione è arrivata al punto in cui la parte ucraina annunciò, no, non faremo nulla. Hanno anche iniziato a prepararsi per un'azione militare. Sono stati loro a iniziare la guerra nel 2014. Il nostro obiettivo è fermare questa guerra. E non abbiamo iniziato questa guerra nel 2022. Questo è un tentativo di fermarla. Pensa di averla fermata adesso? Voglio dire, ha raggiunto i suoi obiettivi? No, non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi, perché uno di questi è la denazificazione. Ciò significa la proibizione di ogni tipo di movimento neonazista. Questo è uno dei problemi di cui abbiamo discusso durante il processo negoziale conclusosi a Istanbul all'inizio dell'anno scorso. E non è stata una nostra iniziativa, perché ci è stato detto, dagli europei in particolare, che era necessario creare le condizioni per la firma definitiva dei documenti. I miei colleghi in Francia e Germania hanno detto, come puoi immaginare che firmino un trattato con una pistola puntata alla Tempia? Le truppe dovrebbero essere ritirate da Kiev. Ho detto, va bene, quindi abbiamo ritirato le truppe da Kiev. Non appena abbiamo ritirato le nostre truppe da Kiev, i nostri negoziatori ucraini hanno immediatamente gettato nel cestino tutti gli accordi raggiunti a Istanbul e si sono preparati per uno scontro armato a lungo termine con l'aiuto degli Stati Uniti e dei loro satelliti in Europa. Ecco come si è sviluppata la situazione ed è così che appare adesso. Cos'è la denazificazione? Cosa l'Ucraina ha cominciato a cercare, come dicono alcuni analisti occidentali, la propria identità. E non hanno elaborato niente di meglio che costruire questa identità su alcuni falsi eroi che collaborarono con Hitler. Ho già detto che all'inizio del XIX secolo, quando apparvero i teorici dell'indipendenza e della sovranità dell'Ucraina, presumevano che un'Ucraina indipendente dovesse avere ottime relazioni con la Russia. Ma, a causa dello sviluppo storico, questi territori facevano parte della Confederazione Polacco-Lituana, la stessa Polonia, dove gli ucraini venivano perseguitati e trattati in modo piuttosto brutale ed erano soggetti a comportamenti crudeli. Ci sono stati anche tentativi di distruggere la loro identità. Tutto questo è rimasto nella memoria della gente. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, una parte di questa elite estremamente nazionalista collaborò con Hitler, credendo che avrebbe portato loro la libertà. Le truppe tedesche, anche le truppe delle SS, fecero fare ai collaborazionisti ucraini di Hitler il lavoro più sporco di sterminio della popolazione polacca ed ebraica. Da qui questo brutale massacro della popolazione polacca ed ebraica, nonché della popolazione russa. Questo è stato guidato da persone ben note, Bandera, Shukhevich. Queste persone sono diventate eroi nazionali in Ucraina. Questo è il problema. E ci viene costantemente detto che il nazionalismo e il neonazismo esistono anche in altri paesi. Sì, ci sono germogli, ma le sradichiamo e anche altri paesi combattono contro di loro. Ma in Ucraina non è così. Queste persone sono diventate eroi nazionali in Ucraina. A queste persone sono stati eretti monumenti, sono esposti su bandiere, i loro nomi sono gridati da folle che camminano con torce, come avveniva nella Germania nazista. Queste furono le persone che sterminarono polacchi, ebrei e russi. È necessario fermare questa pratica e impedire la diffusione di questo concetto. Dico che gli ucraini fanno parte dell'unico popolo russo. Loro dicono, no, siamo un popolo separato. Ok, va bene. Se si considerano un popolo separato, hanno il diritto di farlo, ma non sulla base del nazismo, dell'ideologia nazista. Si riterrebbe soddisfatto del territorio che ha adesso? Finirò di rispondere alla domanda. Ha appena posto una domanda sul neonazismo e sulla denazificazione. Vede, il presidente dell'Ucraina ha visitato il Canada. Questa storia è ben nota, ma nei paesi occidentali è messa a tacere. Il Parlamento canadese ha presentato un uomo che, come ha detto il presidente del Parlamento, ha combattuto contro i russi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, chi ha combattuto contro i russi durante la Seconda Guerra Mondiale? Hitler e i suoi complici. Si è scoperto che quest'uomo prestava servizio nelle truppe delle SS. Ha ucciso personalmente russi, polacchi ed ebrei. Le truppe delle SS erano costituite da nazionalisti ucraini che facevano questo lavoro sporco. Il presidente dell'Ucraina si è alzato insieme all'intero Parlamento canadese e ha applaudito quest'uomo. Come si può immaginare una cosa così? Lo stesso presidente dell'Ucraina, tra l'altro, è ebreo di nazionalità. Davvero la mia domanda è, cosa vuole fare al riguardo? Voglio dire, Hitler è morto da 80 anni, la Germania nazista non esiste più. Quindi, penso che quello che sta dicendo sia che lei voglia estinguere o almeno controllare il nazionalismo ucraino. Ma come può riuscirci? Senta, la sua domanda è molto sottile e posso dirle cosa penso. Non si offenda. Ma certo! Questa domanda sembra subdola. È piuttosto fastidiosa. Dice che Hitler è morto da così tanti anni, 80 anni. Ma il suo esempio continua a vivere. Le persone che hanno sterminato ebrei, russi e polacchi sono vive. E il presidente, l'attuale presidente dell'Ucraina di oggi, le applaude nel Parlamento canadese, fa una standing ovation. Possiamo dire di aver sradicato completamente questa ideologia, se ciò che vediamo accade oggi? Questo è ciò che è la denazificazione per noi. Dobbiamo sbarazzarci di coloro che sostengono queste idee e sostengono queste pratiche e cercano di preservarle. Ecco cos'è la denazificazione. Questo è ciò che intendiamo. Giusto. La mia domanda è quasi specifica. E ovviamente non era una difesa del nazismo. È una questione pratica. Non controlla l'intero paese. E non sembra che lei voglia farlo. Quindi, come si elimina quella cultura? Come gestisce ideologie, sentimenti e visioni della storia in un paese che non è sotto il suo controllo? Vede, per quanto strano possa sembrarvi, durante i negoziati a Istanbul abbiamo concordato che, abbiamo tutto scritto, il neonazismo non sarebbe stato foraggiato in Ucraina e che sarebbe stato vietato a livello legislativo. Signor Carlson, su questo eravamo d'accordo. Questo, a quanto pare, può essere fatto durante il processo di negoziazione. E non c'è nulla di umiliante per l'Ucraina in quanto stato moderno e civile. In qualche stato è consentito promuovere il nazismo? Non lo è, vero? Questo è tutto. Ci saranno trattative? E perché non si è parlato della risoluzione del conflitto in Ucraina? Discorsi di pace? Ci sono stati. Hanno raggiunto uno stadio molto avanzato di coordinamento delle posizioni in un processo complesso, ma erano comunque quasi finalizzati. Ma dopo che abbiamo ritirato le nostre truppe da Kiev, come ho già detto, l'altra parte, l'Ucraina, ha gettato via tutte questi accordi e ha obbedito alle istruzioni dei paesi occidentali, europei e degli Stati Uniti di combattere la Russia fino alla fine. Inoltre, il presidente dell'Ucraina ha legiferato il divieto di negoziare con la Russia. Ha firmato un decreto che vieta a tutti di negoziare con la Russia. Ma come negozieremo se lui proibisce a se stesso e a tutti di farlo? Sappiamo che sta avanzando alcune idee su questo accordo. Ma per essere d'accordo su qualcosa dobbiamo avere un dialogo. Non è vero? Beh, ma lei non parlerebbe al presidente ucraino, parlerebbe al presidente americano. Quando è stata l'ultima volta che ha parlato con Joe Biden? Non ricordo quando gli ho parlato. Non ricordo. Possiamo cercarlo. Non si ricorda? No, perché? Devo ricordare tutto? Ho le mie cose da fare. Abbiamo affari politici interni. Ma sta finanziando la guerra che sta combattendo. Quindi credo se lo dovrebbe ricordare. Ebbene sì, la finanzia. Ma ovviamente gli ho parlato prima dell'operazione militare speciale. Non entrerò nei dettagli. Non lo faccio, ma posso dire che gli ho detto. Credo che lei stia commettendo un errore enorme di proporzioni storiche, sostenendo tutto ciò che sta accadendo lì, in Ucraina, allontanando la Russia. Gliel'ho detto. Gliel'ho detto più volte, tra l'altro. Penso che sarebbe corretto se mi fermassi qui. Cosa ha detto? Lo chieda a lui, per favore. È più facile per lei che è cittadino degli Stati Uniti. Vada a chiederglielo. Non è appropriato che io commenti la nostra conversazione. Ma non vi parlate da prima del febbraio 2022? No. Non abbiamo parlato. Alcuni contatti però sono stati mantenuti. A proposito, ricorda cosa le ho detto sulla mia proposta di lavorare insieme su un sistema di difesa missilistica? Sì. Può chiedere a tutti. Sono tutti sani e salvi. Grazie a Dio. L'ex presidente, Condole Isarais, il signor Gates, e l'attuale direttore della Central Intelligence Agency, il signor Burns, l'allora ambasciatore in Russia. Erano tutti testimoni di queste conversazioni. Glielo chieda. Se le interessa sapere cosa mi ha risposto il signor presidente Biden, glielo chieda. In ogni caso gliene ho parlato. Sono decisamente interessato. Ma dall'altro lato sembra ancora che il conflitto potrebbe degenerare, evolversi in qualcosa che porta il mondo intero in guerra e potrebbe avviare un conflitto nucleare. E quindi perché non chiama semplicemente Biden e dice risolviamo? Cosa c'è da risolvere? È molto semplice. Ripeto, abbiamo contatti tramite varie agenzie. Vi dirò cosa stiamo dicendo a questo proposito e cosa stiamo trasmettendo alla leadership americana. Se davvero volete smettere di combattere, dovete smettere di fornire armi. Tutto finirà nel giro di poche settimane. Questo è tutto. E poi possiamo concordare alcuni termini prima di farlo. Basta. Cosa c'è di più facile? Perché dovrei chiamarlo? Di cosa dovrei parlargli? O implorarlo per cosa? Consegnerai queste e quelle armi all'Ucraina. Oh, ho paura. Ho paura. Per favore non farlo. Di cosa dovremmo parlare? Pensa che la Nato sia preoccupata che quella in Ucraina possa diventare una guerra globale o un conflitto nucleare. Almeno questo è ciò di cui parlano. E stanno cercando di intimidire la propria popolazione con un'immaginaria minaccia russa. Questo è ovvio. E le persone pensanti, non i filistei, ma le persone pensanti, gli analisti, coloro che sono impegnati nella politica reale. Solo le persone intelligenti capiscono perfettamente che questo è falso. Stanno cercando di alimentare la minaccia russa. La minaccia a cui penso lei si riferisca è l'invasione russa della Polonia e della Lettonia. Un comportamento espansionista. Riesci a immaginare uno scenario in cui invia truppe russe in Polonia? Solo in un caso. Se la Polonia attacca la Russia. Perché? Perché non abbiamo alcun interesse in Polonia, Lettonia o altrove. Perché dovremmo farlo? Semplicemente non abbiamo alcun interesse. È solo propaganda. Beh, la tesi, so che la conosce, è che avete obiettivi territoriali in tutto il continente. E' assolutamente fuori questione. Non serve nemmeno essere degli analisti. Semplicemente va contro il buonsenso farsi coinvolgere in una sorta di guerra globale. E una guerra globale porterebbe tutta l'umanità sull'orlo della distruzione. È ovvio. Esistono certamente strumenti di deterrenza. Hanno sempre spaventato tutti. Domani la Russia utilizzerà armi nucleari tattiche. Domani la Russia userà quelle. No, dopo domani. E allora? Queste sono solo storie dell'orrore per la gente della strada allo scopo di estorcere denaro aggiuntivo ai contribuenti statunitensi ed europei nello scontro con la Russia nel teatro di guerra ucraino. L'obiettivo è indebolire il più possibile la Russia. Uno dei nostri senatori più anziani degli Stati Uniti dello Stato di New York, Chuck Schumer, ha detto ieri, credo, che dobbiamo continuare a finanziare lo sforzo ucraino, altrimenti i soldati americani potrebbero finire a combattere lì. Come lo valuta? Questa è una provocazione e per di più una provocazione a buon mercato. Non capisco perché i soldati americani dovrebbero combattere in Ucraina. Là ci sono mercenari provenienti dagli Stati Uniti. Il maggior numero di mercenari proviene dalla Polonia. Al secondo posto i mercenari dagli Stati Uniti e al terzo quelli dalla Georgia. Ebbene, se qualcuno volesse inviare truppe regolari, ciò porterebbe sicuramente l'umanità sull'orlo di un conflitto globale molto grave. Questo è ovvio. Gli Stati Uniti ne hanno bisogno? Perché cosa? A migliaia di chilometri dal vostro territorio nazionale. Non avete niente di meglio da fare? Avete problemi al confine? Problemi con l'immigrazione? Problemi con il debito nazionale? Più di 33 trilioni di dollari. Non avete niente di meglio da fare che combattere in Ucraina? Non sarebbe meglio negoziare con la Russia? Stringere un accordo, comprendendo già la situazione che si sta sviluppando oggi, rendendosi conto che la Russia combatterà fino alla fine per i propri interessi. E rendendoci conto di ciò, torniamo effettivamente al buonsenso. Iniziamo a rispettare il nostro paese e i suoi interessi e cerchiamo determinate soluzioni. Mi sembra che questo sia molto più intelligente e razionale. Chi ha fatto saltare in aria il Nord Stream? Voi, sicuramente. Ero occupato quel giorno. Non ho fatto saltare in aria il Nord Stream. Lei personalmente potrebbe avere un alibi, ma la CIA non ha tale alibi. Ha delle prove che sia stata la Nato o la CIA? Sapete, non entrerò nei dettagli, ma in questi casi la gente dice sempre, cercate qualcuno che sia interessato, ma in questo caso non bisognerebbe cercare solo qualcuno che sia interessato, ma anche qualcuno che abbia le capacità. Perché possono esserci molte persone interessate, ma non tutte sono in grado di sprofondare nel fondo del Mar Baltico e provocare questa esplosione. Queste due componenti dovrebbero essere collegate, chi è interessato e chi è capace di farlo. Ma sono confuso. Voglio dire, questo è il più grande atto di terrorismo industriale di sempre ed è la più grande emissione di CO2 nella storia. Ok, quindi, se avesse delle prove che la Nato, gli Stati Uniti, la CIA, e l'Occidente abbiano fatto questo, perché non dovrebbe presentarle per ottenere una vittoria propagandistica? Nella guerra di propaganda è molto difficile sconfiggere gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti controllano tutti i media mondiali e molti media europei. I beneficiari finali dei più grandi media europei sono le istituzioni finanziarie americane. Non lo sa? Quindi è possibile impegnarsi in questo lavoro, ma i costi, per così dire, sono proibitivi. Possiamo semplicemente puntare i riflettori sulle nostre fonti di informazione e non otterremo risultati. Quello che è successo è chiaro a tutto il mondo e anche gli analisti americani ne parlano direttamente. Sì, ma ecco una domanda a cui potrebbe essere in grado di rispondere. Ha lavorato in Germania, notoriamente. Se è come dice i tedeschi, dovrebbero chiaramente sapere che il loro partner Nato ha fatto questo, che ha danneggiato gravemente la loro economia, che potrebbe non riprendersi mai. Perché tacciano al riguardo? Questo è molto confuso per me. Perché i tedeschi non dovrebbero dire qualcosa al riguardo? Anche questo mi confonde. Ma la leadership tedesca di oggi è guidata dagli interessi dell'Occidente collettivo, piuttosto che dai suoi interessi nazionali. Altrimenti sarebbe difficile spiegare la logica della loro azione o inazione. Dopotutto, non si tratta solo del Nord Stream 1, che è stato fatto saltare in aria, e del Nord Stream 2 è stato danneggiato, ma un tubo è sano e salvo, e attraverso di esso il gas può essere fornito all'Europa, ma la Germania non lo apre. Esiste un'altra rotta attraverso la Polonia, chiamata Jamal Europa, che consente anch'essa un grande flusso. La Polonia lo ha chiuso, ma la Polonia attinge dalla mano tedesca, riceve denaro da fondi paneuropei, e la Germania è il principale donatore di questi fondi paneuropei. La Germania nutre la Polonia in una certa misura, e hanno chiuso la strada verso la Germania. Perché? Non capisco. La Germania è il secondo sponsor dopo gli Stati Uniti in termini di aiuti finanziari all'Ucraina. Ci sono due rotte del gas attraverso l'Ucraina. Hanno semplicemente chiuso una linea di flusso, quella degli ucraini. Apri la seconda linea e prendi il gas dalla Russia. Non la aprono. Perché i tedeschi non dicono, guardate ragazzi, vi diamo soldi e armi. Aprite la valvola, per favore. Lasciate passare il gas dalla Russia per noi. Stiamo acquistando gas liquefatto a prezzi esorbitanti in Europa. Il che porta il livello della nostra competitività e dell'economia in generale, a zero. Vuoi che ti diamo dei soldi? Cerchiamo di avere un'esistenza dignitosa, di guadagnare soldi per la nostra economia, perché è da lì che provengono i soldi che vi diamo. Si rifiutano di farlo. Perché? Glielo chieda. Quelle sono persone estremamente incompetenti. Beh, forse il mondo si sta dividendo in due emisferi. Uno con energia a basso costo, l'altro senza. E voglio chiederle, se ora siamo un mondo multipolare, ovviamente lo siamo, può descrivere i blocchi delle alleanze. Chi c'è in ciascuna fazione secondo lei? Ascolti, ha detto che il mondo si sta dividendo in due emisferi. Il cervello umano è diviso in due emisferi. Uno è responsabile di un tipo di attività, l'altro è più legato alla creatività e così via. Ma è sempre la stessa testa. Il mondo dovrebbe essere un tutt'uno. La sicurezza dovrebbe essere condivisa e non riservata al golden billion. Questo è l'unico scenario in cui il mondo potrebbe essere stabile, sostenibile e prevedibile. Fino ad allora, finché la testa rimane divisa in due parti ostili, è come una malattia, una condizione avversa grave. È un periodo di grave malattia quello che il mondo sta attraversando. Ma penso che, grazie al giornalismo onesto, questo lavoro è simile al lavoro dei medici. Si potrebbe in qualche modo porre rimedio a questo problema. Bene, facciamo solo un esempio. Il dollaro americano, che in un certo senso ha unito il mondo in molti modi, forse non a suo vantaggio ma sicuramente a nostro vantaggio. Scomparirà come valuta di riserva? Cioè la valuta che viene universalmente accettata? In che modo, secondo lei, le sanzioni hanno cambiato la posizione del dollaro nel mondo? Sapete, usare il dollaro come strumento di lotta in politica estera è uno dei più grandi errori strategici commessi dalla leadership statunitense. Il dollaro è la pietra angolare del potere degli Stati Uniti. Penso che tutti capiscano molto bene che, non importa quanti dollari vengono stampati, vengono rapidamente dispersi in tutto il mondo. L'inflazione negli Stati Uniti è minima. Si tratta di circa il 3 o 3,4%, che a mio avviso è del tutto accettabile per gli Stati Uniti, ma non smetteranno di stampare. Cosa ci dice il debito di 33 mila miliardi di dollari riguarda l'emissione? Tuttavia, è l'arma principale utilizzata dagli Stati Uniti per preservare il proprio potere nel mondo. Non appena la leadership politica ha deciso di utilizzare il dollaro USA come strumento di lotta politica, la potenza americana è stata colpita. Non vorrei usare un linguaggio forte, ma è una cosa stupida da fare e un grave errore. Guardi cosa sta succedendo nel mondo. Anche gli alleati degli Stati Uniti stanno ora ridimensionando le loro riserve in dollari. Vedendo questo, tutti iniziano a cercare modi per proteggersi. Ma il fatto che gli Stati Uniti applichino misure restrittive a determinati paesi, come l'imposizione di restrizioni sulle transazioni, il congelamento dei beni, eccetera, causa grave preoccupazione e invia un segnale al mondo intero. Cosa avevamo qui? Fino al 2022, circa l'80% delle transazioni commerciali estere della Russia venivano effettuate in dollari statunitensi ed euro. I dollari USA rappresentano circa il 50% delle nostre transazioni con i paesi terzi, mentre attualmente la percentuale è scesa al 13%. Non siamo stati noi a vietare l'uso del dollaro americano. Non avevamo questa intenzione. È stata la decisione degli Stati Uniti a limitare le nostre transazioni in dollari USA. Penso che sia una totale follia dal punto di vista degli interessi degli stessi Stati Uniti e dei loro contribuenti, poiché danneggia l'economia americana e mina il potere degli Stati Uniti nel mondo. A proposito, le nostre transazioni in yuan cinesi rappresentavano circa il 3%. Oggi il 34% delle nostre transazioni vengono effettuate in rubli e quasi la stessa cifra, poco più del 34% in yuan. Perché gli Stati Uniti hanno fatto questo? La mia unica ipotesi è la presunzione. Probabilmente pensavano che ciò avrebbe portato ad un nostro collasso totale, ma non è crollato nulla. Inoltre, altri paesi, compresi i produttori di petrolio, stanno pensando e già accettano pagamenti per il petrolio in yuan. Vi rendete conto di cosa sta succedendo oppure no? Qualcuno negli Stati Uniti se ne rende conto? Cosa fate? Vi state tagliando fuori, lo dicono tutti gli esperti. Chiedete a qualsiasi persona intelligente e riflessiva negli Stati Uniti cosa significa il dollaro per gli Stati Uniti. Lo state uccidendo con le vostre stesse mani. Penso che sia una valutazione giusta. La domanda è, cosa verrà dopo? Non state scambiando una potenza egemone con un'altra potenza egemone, molto meno empatica e indulgente? I BRICS, ad esempio, non rischiano di essere completamente dominati dall'economia cinese in un modo che non va bene per la vostra sovranità? La preoccupa questo? Abbiamo già sentito quelle storie sull'uomo nero e questa è un'altra. Siamo vicini della Cina. Non si possono scegliere i vicini, così come non si possono scegliere i parenti stretti. Condividiamo con loro un confine di mille chilometri. Questo è il primo punto. In secondo luogo, abbiamo una storia di convivenza lunga secoli. Ci siamo abituati. In terzo luogo, la filosofia della politica estera cinese non è aggressiva. La sua idea è quella di cercare sempre il compromesso. E questo si vede. Il punto successivo è il seguente. Ci viene sempre raccontata la stessa storia dello spauracchio. E qui si ripete, anche se in forma eufemistica, ma è sempre la stessa storia dello spauracchio. La cooperazione con la Cina continua ad aumentare. Il ritmo con cui cresce la cooperazione della Cina con l'Europa è più elevato e maggiore di quello della crescita della cooperazione sino-russa. Chiedi agli europei. Non hanno paura? Potrebbe essere, non lo so. Ma stanno ancora cercando di accedere al mercato cinese a tutti i costi, soprattutto ora che si trovano ad affrontare problemi economici. Anche le imprese cinesi stanno esplorando il mercato europeo. Le imprese cinesi hanno una piccola presenza negli Stati Uniti? Sì, le decisioni politiche sono tali che stanno cercando di limitare la loro cooperazione con la Cina. Limitare la cooperazione con la Cina va a vostro discapito, signor Tucker, facendo del male a voi stessi. È una questione delicata e non esistono soluzioni miracolose, proprio come nel caso del dollaro. Quindi, prima di introdurre sanzioni illegittime, illegittime ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, bisognerebbe riflettere molto attentamente. Per i decisori, questo sembra essere un problema. Quindi, poco fa ha detto che il mondo sarebbe molto migliore se non fosse diviso in alleanze concorrenti, se esistesse cooperazione a livello globale. Uno dei motivi per cui non esiste è perché l'attuale amministrazione americana vi è totalmente ostile. Pensa che se vi fosse una nuova amministrazione dopo Joe Biden, sareste in grado di ristabilire la comunicazione con il governo degli Stati Uniti? Oppure non ha importanza chi sia il presidente? Ve lo dirò. Ma lasciatemi concludere il pensiero precedente. Insieme al mio collega e amico presidente Xi Jinping, abbiamo fissato l'obiettivo di raggiungere quest'anno 200 miliardi di dollari di scambi reciproci con la Cina. Abbiamo superato questo livello. Secondo i nostri dati, il nostro commercio bilaterale con la Cina ammonta già a 230 miliardi, mentre le statistiche cinesi dicono che ammonta a 240 miliardi di dollari. Ancora una cosa importante, il nostro commercio è ben equilibrato e reciprocamente complementare nei settori dell'alta tecnologia, dell'energia, della ricerca scientifica e dello sviluppo. È molto equilibrato. Per quanto riguarda i BRICS, dove quest'anno la Russia ha assunto la presidenza, i paesi BRICS si stanno, nel complesso, sviluppando molto rapidamente. Guardi, se la memoria non mi inganna, nel 1992 la quota dei paesi del G7 nell'economia mondiale ammontava al 47%, mentre nel 2022 era scesa, credo, a poco più del 30%. I paesi BRICS rappresentavano solo il 16% nel 1992, ma ora la loro quota è maggiore di quella del G7. Non ha nulla a che fare con gli eventi in Ucraina. Ciò è dovuto alle tendenze dello sviluppo globale e dell'economia mondiale che ho menzionato poco fa, e questo è inevitabile. Questo continuerà ad accadere. È come il sorgere del sole. Non puoi impedire al sole di sorgere. Devi adattarti ad esso. Come si adattano gli Stati Uniti? Con l'aiuto della forza, sanzioni, pressioni, bombardamenti e uso delle forze armate. Si tratta di presunzione. La vostra classe dirigente politica non capisce che il mondo sta cambiando, in circostanze oggettive, e per preservare il vostro livello, anche se qualcuno aspira, scusatemi, al livello di dominio, dovete prendere le giuste decisioni in modo competente e tempestivo. Tali azioni brutali, anche nei confronti della Russia e ad esempio di altri paesi, sono controproducenti. Questo è un fatto ovvio. È già diventato evidente. Mi ha appena chiesto se arriva un altro leader e cambia qualcosa. Non si tratta del leader. Non si tratta della personalità di una persona in particolare. Ho avuto un ottimo rapporto, diciamo, con Bush. So che negli Stati Uniti veniva ritratto come una specie di ragazzo di campagna che non capisce molto. Ti assicuro che non è così. Penso che abbia commesso molti errori anche nei confronti della Russia. Vi ho parlato del 2008 e della decisione di Bucarest di aprire le porte della Nato all'Ucraina, e così via. Ciò è accaduto durante la sua presidenza. In realtà ha esercitato pressioni sugli europei. Ma in generale, a livello umano e personale, ho avuto con lui un ottimo rapporto. Non era peggiore di qualsiasi altro politico americano, russo o europeo. Le assicuro che capiva quello che faceva meglio degli altri. Ho avuto anche rapporti personali con Trump. Non è una questione della personalità del leader, ma della mentalità delle elite. Se nella società americana domina l'idea del dominio ad ogni costo, basato anche su azioni di forza, non cambierà nulla. Potrà solo peggiorare. Ma se alla fine si arrivasse alla consapevolezza che il mondo sta cambiando a causa di circostanze oggettive e che bisognerebbe essere in grado di adattarsi ad esse in tempo, sfruttando i vantaggi che gli Stati Uniti hanno ancora oggi, allora forse qualcosa potrebbe cambiare. Guardate, l'economia cinese è diventata la prima economia al mondo per parità di potere d'acquisto. In termini di volume, ha superato da tempo gli Stati Uniti. Al secondo posto ci sono gli USA, poi l'India, un miliardo e mezzo di abitanti, e poi il Giappone, con la Russia al quinto posto. La Russia è stata la prima economia in Europa lo scorso anno, nonostante tutte le sanzioni e restrizioni. È normale, dal vostro punto di vista, sanzioni, restrizioni, impossibilità di pagare in dollari, esclusione dai servizi SWIFT, sanzioni contro le nostre navi che trasportano petrolio, sanzioni contro gli aerei, sanzioni in tutto, ovunque. Il maggior numero di sanzioni nel mondo vengono applicate contro la Russia. E in questo periodo siamo diventati la prima economia d'Europa. Gli strumenti utilizzati dagli Stati Uniti non funzionano. Ebbene, bisogna pensare a cosa fare. Se questa consapevolezza arriva alle élite al potere, allora sì, allora la prima persona dello Stato agirà in previsione di ciò che gli elettori e le persone che prendono decisioni, a vari livelli, si aspettano da questa persona. Allora forse qualcosa cambierà. Ma sta descrivendo due sistemi diversi. Lei dice che il leader agisce nell'interesse degli elettori, ma dice anche che queste decisioni non vengono prese dal leader, bensì dalle classi dominanti. Ha governato il paese per così tanto tempo che ha conosciuto tutti questi presidenti americani. Quali sono, secondo lei, questi centri di potere negli Stati Uniti? E chi prende effettivamente le decisioni? Non lo so. L'America è un paese complesso, conservatore da un lato, dall'altro in rapido cambiamento. Non è facile per noi risolvere tutto. Chi prende le decisioni nelle elezioni è impossibile capirlo. Quando ogni Stato ha la propria legislazione, ogni Stato si regola da solo. Qualcuno può essere escluso dalle elezioni a livello statale. È un sistema elettorale a due fasi. Per noi è molto difficile capirlo. Certamente ci sono due partiti dominanti, i repubblicani e i democratici. E all'interno di questo sistema partitico ci sono i centri che prendono le decisioni, che preparano le decisioni. Allora guardi perché, secondo me, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, è stata perseguita una politica di pressione così errata, rozza e del tutto ingiustificata contro la Russia? Dopotutto, questa è una politica di pressione. L'espansione della NATO, il sostegno ai separatisti nel Caucaso, la creazione di un sistema di difesa missilistica. Questi sono tutti elementi di pressione. Pressione, pressione, pressione. Quindi, trascinare l'Ucraina nella NATO è tutta una questione di pressione, pressione, pressione. Perché? Penso, tra le altre cose, perché sono state create capacità produttive eccessive. Durante il confronto con l'Unione Sovietica, furono creati molti centri specializzati sull'Unione Sovietica, che non potevano fare nient'altro. A loro è sembrato, hanno convinto la leadership politica che fosse necessario continuare a ridimensionare la Russia, cercare di disgregarla, creare su questo territorio, diverse entità quasi statali, e sottometterle in forma divisa, utilizzare il loro potenziale combinato per la futura lotta con la Cina. Questo è un errore, compreso l'eccessivo potenziale di coloro che lavorarono per il confronto con l'Unione Sovietica. È necessario liberarsene, dovrebbero esserci forze nuove, fresche, persone che guardano al futuro e capiscono cosa sta succedendo nel mondo. Guardate come si sta sviluppando l'Indonesia. 600 milioni di persone. Dove possiamo allontanarci da ciò? Da nessuna parte. Dobbiamo solo presumere che l'Indonesia entrerà, è già nel, club delle principali economie del mondo, non importa chi piaccia o non piaccia. Sì, capiamo e siamo consapevoli che negli Stati Uniti, nonostante tutti i problemi economici, la situazione è ancora normale. L'economia cresce decentemente, il PIL cresce del 2,5%, se non sbaglio. Ma se vogliamo garantire il futuro, allora dobbiamo cambiare il nostro approccio verso ciò che sta cambiando. Come ho già detto, il mondo cambierà comunque, indipendentemente da come finiranno gli sviluppi in Ucraina. Il mondo sta cambiando. Negli stessi Stati Uniti, gli esperti scrivono che gli Stati Uniti stanno comunque gradualmente cambiando la loro posizione nel mondo. Lo scrivono i vostri esperti. Io li ho appena letti. L'unica domanda è come ciò accadrebbe, in modo doloroso e rapido, oppure dolcemente e gradualmente. E questo è scritto da persone che non sono anti-americane, seguono semplicemente le tendenze di sviluppo globale. Questo è tutto. E per valutarli e cambiare, le politiche, abbiamo bisogno di persone che pensino, guardino avanti, sappiano analizzare e raccomandare determinate decisioni a livello di leader politici. Ha detto chiaramente che l'espansione della Nato verso Est è una violazione della promessa fatta a tutti voi negli anni 90. È una minaccia per il vostro paese. Subito prima dell'invio delle truppe in Ucraina, il vicepresidente degli Stati Uniti ha parlato alla conferenza sulla sicurezza e ha incoraggiato il presidente dell'Ucraina ad aderire alla Nato. Pensa che sia stato uno sforzo per provocarvi in un'azione militare? Lo ripeto ancora una volta, abbiamo ripetutamente, ripetutamente proposto di cercare una soluzione ai problemi sorti in Ucraina dopo il colpo di Stato del 2014 con mezzi pacifici, ma nessuno ci ha ascoltato. Inoltre, i leader ucraini, che erano sotto il completo controllo degli Stati Stati Uniti, hanno improvvisamente dichiarato che non avrebbero rispettato gli accordi di Minsk, che non gli piaceva tutto ciò che c'era lì e hanno continuato l'attività militare in quel territorio. E parallelamente, quel territorio veniva sfruttato dalle strutture militari della Nato sotto forma di vari centri di addestramento e riqualificazione del personale. Essenzialmente, iniziarono a creare basi lì. Gli ucraini poi annunciarono che i russi fossero una nazionalità non titolare in Ucraina, mentre approvavano una legge che limitava i diritti dei cittadini di nazionalità non titolari. L'Ucraina, dopo aver ricevuto in dono tutti questi territori del sud-est dal popolo russo, ha improvvisamente annunciato che i russi erano una nazionalità non titolare di diritti in quel territorio. È normale? Tutto ciò ha portato alla decisione di porre fine alla guerra iniziata dai neonazisti in Ucraina nel 2014. Ritiene che Zelensky abbia la libertà di negoziare la soluzione di questo conflitto? Non conosco i dettagli. Ovviamente mi è difficile giudicare. Ma credo che in ogni caso lo avrebbe potuto avere. Suo padre ha combattuto contro i fascisti, i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Una volta gli ho parlato di questo. Ho detto, Volodymyr, cosa stai facendo? Perché oggi sostieni i neonazisti in Ucraina, mentre tuo padre combatteva contro il fascismo? Era un soldato in prima linea. Non le dirò cosa ha risposto. Questo è un argomento a parte e penso che sia sbagliato da parte mia farlo. Ma, per quanto riguarda la libertà di scelta, perché no? È salito al potere grazie alle aspettative del popolo ucraino che avrebbe portato l'Ucraina alla pace. Ne ha parlato? È stato grazie a questo che ha vinto le elezioni in modo schiacciante. Ma poi, quando è salito al potere, secondo me, ha capito due cose. Primo, è meglio non scontrarsi con neonazisti e nazionalisti, perché sono aggressivi e molto attivi, da loro puoi aspettarti di tutto. E secondo, l'Occidente guidato dagli Stati Uniti li sostiene e sosterrà sempre coloro che diventano nemici della Russia. È vantaggioso e sicuro. Quindi ha preso una posizione decisa, nonostante avesse promesso al suo popolo di porre fine alla guerra in Ucraina. Ha ingannato i suoi elettori. Ma pensa che a questo punto, a febbraio 2024, abbia la libertà di parlare direttamente con lei o con il governo? Il che aiuterebbe chiaramente il suo paese e il mondo. Può farlo, secondo lei? Perché no? Si considera capo dello Stato. Ha vinto le elezioni. Sebbene in Russia crediamo che il colpo di Stato sia la principale fonte di potere per tutto ciò che è accaduto dopo il 2014. E in questo senso, anche il governo di oggi è imperfetto. Ma lui si considera il presidente ed è riconosciuto dagli Stati Uniti, da tutta l'Europa e praticamente dal resto del mondo in tale veste. Perché no? Lui può. Abbiamo negoziato con l'Ucraina a Istanbul. Abbiamo concordato. Lui ne era consapevole. Inoltre, il leader del gruppo negoziale, il signor Arakamia, mi pare faccia ancora parte del partito al governo, il partito del presidente, quello che ha ancora la maggioranza dei seggi nel Parlamento. Ha anche apposto la sua firma preliminare sul documento di cui vi parlo, ma poi dichiarò pubblicamente al mondo intero. eravamo pronti a firmare questo documento, ma il signor Johnson, allora primo ministro della Gran Bretagna, venne e ci dissuase dal farlo dicendo che era meglio combattere la Russia. Darebbero tutto il necessario per restituirci quanto perduto durante gli scontri con la Russia. E noi eravamo d'accordo con questa proposta. Guardi, la sua dichiarazione è stata pubblicata. Lo ha detto pubblicamente. Possono tornare a questo punto, ma la domanda è lo vogliono o no? Successivamente, il presidente dell'Ucraina ha emanato un decreto che vieta i negoziati con noi. Che annulli quel decreto e basta. Non abbiamo mai rifiutato i negoziati, anzi, ci sentiamo continuamente dire la Russia è pronta? Sì, non abbiamo rifiutato. Sono stati loro a rifiutarsi pubblicamente. Bene, lascia che annulli il suo decreto e avvii i negoziati. Non ci siamo mai rifiutati. E il fatto che abbiano obbedito alla richiesta o alla persuasione del signor Johnson, l'ex primo ministro della Gran Bretagna, mi sembra ridicolo e molto triste. Perché, come ha affermato Aracamia, avremmo potuto fermare queste ostilità, questa guerra, già un anno e mezzo fa. Ma gli inglesi ci hanno convinto e noi abbiamo rifiutato. Dov'è il signor Johnson adesso? E la guerra continua. Questa è una buona domanda. Perché lo ha fatto? E chi diavolo lo sa? Non lo capisco anch'io. C'era un punto di partenza generale. Per qualche ragione, tutti avevano l'illusione che la Russia potesse essere sconfitta sul campo di battaglia. per arroganza, per una scelta di cuore, ma non per una grande pensata. Ha descritto la connessione tra Russia e Ucraina. Ha descritto la Russia stessa, un paio di volte, come ortodossa. Questo è fondamentale per la sua comprensione della Russia. Cosa significa per lei? Lei è un leader cristiano secondo la sua stessa descrizione. Quindi, che effetto ha su di lei? Sai, come ho già detto, nel 988 lo stesso principe Vladimir fu battezzato seguendo l'esempio di sua nonna, la principessa Olga, e poi battezzò la sua squadra e poi gradualmente, nel corso di diversi anni, battezzò tutta la Russia. È stato un processo lungo, dai pagani ai cristiani. Ci sono voluti molti anni, ma alla fine, questa ortodossia, il cristianesimo orientale, si è profondamente radicata nella coscienza del popolo russo. Quando la Russia si espanse e assorbì altre nazioni che professavano l'Islam, il buddismo e l'ebraismo, la Russia è sempre stata molto leale verso coloro che professavano altre religioni. questa è la sua forza. Questo è assolutamente chiaro. E il fatto è che i postulati principali, i valori principali, sono molto simili, per non dire uguali, in tutte le religioni del mondo che ho appena menzionato e che sono le religioni tradizionali della Federazione Russa, della Russia. A proposito, le autorità russe sono sempre state molto attente alla cultura e alla religione dei popoli che entrarono nell'impero russo. Ciò, a mio avviso, costituisce la base sia della sicurezza che della stabilità dello Stato russo. Tutti i popoli che abitano la Russia la considerano sostanzialmente la loro patria. Se, ad esempio, le persone si trasferiscono da voi o in Europa dall'America Latina, un esempio ancora più chiaro e comprensibile, le persone vengono ma sono comunque arrivate da voi o nei paesi europei dalla loro patria storica. E le persone che professano religioni diverse in Russia considerano la Russia la loro patria, non hanno altra patria. stiamo insieme. Questa è una grande famiglia e i nostri valori tradizionali sono molto simili. Ho appena menzionato una grande famiglia ma ognuno ha la propria famiglia e questa è la base della nostra società. E se diciamo che la patria e la famiglia sono specificamente legate tra loro è proprio vero. perché è impossibile garantire un futuro normale ai nostri figli e alle nostre famiglie senza garantire un futuro normale e sostenibile all'intero paese, alla madre patria. Ecco perché il sentimento patriottico è così forte in Russia. Direi che l'unico modo in cui le religioni sono diverse è che il cristianesimo è specificamente una religione non violenta. Gesù dice porgi l'altra guancia non uccidere. Come può un leader che deve uccidere di qualsiasi paese come può essere cristiano? Come lo concilia con se stesso? È molto semplice. Si tratta di proteggere se stessi e la propria famiglia la propria patria. Non attaccheremo nessuno. quando sono iniziati gli sviluppi in Ucraina è da quando sono iniziati il colpo di Stato e le ostilità nel Donbass e stiamo proteggendo la nostra gente noi stessi la nostra patria e il nostro futuro. Per quanto riguarda la religione in generale sapete non si tratta di manifestazioni esterne non si tratta di andare in chiesa tutti i giorni o di sbattere la testa sul pavimento. È nel cuore e la nostra cultura è così orientata all'uomo. Dostoevsky molto conosciuto in occidente come il genio della cultura russa della letteratura russa ha parlato molto di questo dell'anima russa. Dopotutto la società occidentale è più pragmatica i russi pensano di più all'eterno ai valori morali non lo so forse non sarà d'accordo con me ma dopotutto la cultura occidentale è più pragmatica non sto dicendo che questo sia un male rende possibile al Golden Billion di oggi di ottenere un buon successo nella produzione anche nella scienza e così via. Non c'è niente di sbagliato in questo sto solo dicendo che sembriamo uguali ma le nostre menti sono costruite in modo leggermente diverso. Quindi vede del soprannaturale all'opera mentre osserva ciò che sta accadendo nel mondo adesso vede Dio all'opera pensa mai queste sono forze che non sono umane? No a dire il vero non credo la mia opinione è che lo sviluppo della comunità mondiale sia in accordo con le leggi inerenti e quelle leggi sono quello che sono è sempre stato così nella storia dell'umanità alcune nazioni e paesi sono cresciuti sono diventati più forti e più numerosi per poi abbandonare la scena internazionale perdendo lo status a cui erano abituati probabilmente non c'è bisogno che io faccia degli esempi ma potremmo iniziare con Gengis Khan e i conquistatori dell'orda l'orda d'oro e poi finire con l'impero romano sembra che non sia mai esistito nulla di simile all'impero romano nella storia dell'umanità tuttavia il potenziale dei barbari crebbe gradualmente così come la loro popolazione in generale i barbari diventavano più forti e cominciavano a svilupparsi economicamente come diremmo oggi ciò alla fine portò al crollo dell'impero romano e del regime imposto dai romani tuttavia ci vollero cinque secoli perché l'impero romano crollasse la differenza con ciò che sta accadendo ora è che tutti i processi di cambiamento stanno avvenendo a un ritmo molto più rapido che in epoca romana allora quando crede che inizierà l'impero dell'intelligenza artificiale? mi fa domande sempre più complicate per rispondere devi essere un esperto di grandi numeri big data e intelligenza artificiale l'umanità si trova attualmente ad affrontare molte minacce grazie alle ricerche genetiche ora è possibile creare un super uomo un essere umano specializzato un atleta uno scienziato un militare geneticamente modificato secondo alcune indiscrezioni Elon Musk avrebbe già impiantato un chip nel cervello umano negli Stati Uniti cosa ne pensa? beh penso che Elon Musk non possa essere fermato farà ciò che ritiene opportuno tuttavia devi trovare un terreno comune con lui cercare modi per persuaderlo penso che sia una persona intelligente credo davvero che lo sia quindi è necessario raggiungere un accordo con lui perché questo processo deve essere formalizzato e sottoposto a determinate regole l'umanità deve considerare cosa accadrà a causa dei più recenti sviluppi nel campo della genetica o dell'intelligenza artificiale si può fare una previsione approssimativa di ciò che accadrà una volta che l'umanità ha sentito una minaccia esistenziale proveniente dalle armi nucleari tutte le nazioni nucleari hanno iniziato a fare i conti tra loro poiché si sono rese conto che l'uso negligente delle armi nucleari avrebbe potuto portare l'umanità all'estinzione oggi è impossibile fermare la ricerca nel campo della genetica o dell'intelligenza artificiale così come in passato era impossibile fermare l'uso della polvere da sparo ma non appena ci renderemo conto che la minaccia deriva dallo sviluppo sfrenato e incontrollato dell'intelligenza artificiale della genetica o di qualsiasi altro campo arriverà il momento di raggiungere un accordo internazionale su come regolamentare queste cose apprezzo tutto il tempo che ci ha dedicato voglio solo farle un'ultima domanda e riguarda una persona molto famosa negli Stati Uniti Evan Gershkovich reporter del Wall Street Journal ha 32 anni ed è in prigione in Russia da quasi un anno questa è una storia enorme negli Stati Uniti e voglio solo chiederle direttamente senza entrare nei dettagli della sua idea di quanto accaduto se come segno della sua decenza sarà disposto a rilasciarcelo così da farcelo riportare negli Stati Uniti Abbiamo fatto così tanti gesti di buona volontà che penso che li abbiamo esauriti non abbiamo mai visto nessuno ricambiarci in modo simile tuttavia in teoria possiamo dire che non escludiamo che ciò possa avvenire se i nostri partner adotteranno misure reciproche quando parlo di partner mi riferisco innanzitutto ai servizi speciali i servizi speciali sono in contatto tra loro parlano della vicenda in questione non esiste alcun tabù per risolvere la questione siamo disposti a risolverla ma ci sono alcuni termini che vengono discussi tramite canali di servizi speciali credo che un accordo possa essere raggiunto quindi in genere voglio dire queste cose sono accadute ovviamente per secoli un paese cattura un'altra spia all'interno dei suoi confini e la scambia con uno dei suoi uomini dell'intelligence in un altro paese penso che ciò che rende e non sono affari miei ma ciò che lo rende diverso è che questo ragazzo ovviamente non è una spia è un ragazzino e forse stava infrangendo una legge in qualche modo ma non è una spia e tutti lo sanno e lui è stato tenuto in ostaggio quindi forse è in un'altra categoria forse questo danneggia l'immagine della Russia sapete si possono dare diverse interpretazioni su cosa costituisce una spia ma ci sono alcune cose previste dalla legge se una persona ottiene informazioni segrete e lo fa in modo cospirativo allora questo viene qualificato come spionaggio ed è esattamente quello che stava facendo riceveva informazioni riservate e lo faceva di nascosto forse era stato implicato in tutto ciò forse lo aveva fatto per disattenzione o di propria iniziativa considerando i fatti questo è qualificato come spionaggio il fatto è dimostrato poiché è stato colto in flagrante mentre riceveva se si fosse trattato di una scusa inverosimile di un'invenzione o di qualcosa non dimostrato allora la storia sarebbe stata diversa ma è stato colto in flagrante mentre otteneva segretamente informazioni riservate quindi cos'è? sta suggerendo che lavorasse per il governo degli Stati Uniti o per la Nato oppure era semplicemente un giornalista a cui è stato dato materiale che non avrebbe dovuto avere sembrano cose molto diverse non so per chi lavorasse ma vorrei ribadire che ottenere informazioni riservate in segreto si chiama spionaggio e lui lavorava con i servizi speciali statunitensi e per alcune altre agenzie non credo che lavorasse per Monaco perché a Monaco difficilmente interessano queste informazioni spetta ai servizi speciali mettersi d'accordo sono state gettate alcune basi ci sono persone che a nostro avviso non sono collegate a servizi speciali lasciate che vi racconti la storia di una persona che stava scontando una pena in un paese alleato degli Stati Uniti quella persona per sentimenti patriottici eliminò un bandito in una delle capitali europee durante gli eventi nel Caucaso sa cosa stava facendo il bandito non vorrei dirlo ma lo farò comunque ha gettato i nostri soldati fatti prigionieri sulla strada e poi ha passato la sua macchina sopra le loro teste che razza di persona è quella può anche essere definito un essere umano ma c'è stato un patriota che lo ha eliminato in una delle capitali europee che lo abbia fatto di sua spontanea volontà o meno questa è una questione diversa voglio dire è completamente diverso è un giornalista di 32 anni ha commesso qualcosa di diverso non è solo un giornalista lo ribadisco è un giornalista che ottiene segretamente informazioni riservate sì è diverso ma sto comunque parlando di altre persone che sono sostanzialmente controllate dalle autorità statunitensi ovunque stiano scontando una pena c'è un dialogo continuo tra i servizi speciali questo problema deve essere risolto in modo calmo responsabile e professionale si tengono in contatto quindi lasciamo che facciano il loro lavoro non escludo che la persona a cui fa riferimento il signor Gershkovich possa tornare in patria ma in fin dei conti non ha alcun senso tenerlo in prigione in Russia vogliamo che i servizi speciali statunitensi pensino a come possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi che i nostri servizi speciali stanno perseguendo siamo pronti a parlare inoltre i colloqui sono in corso e ci sono stati molti esempi positivi di questi colloqui coronati dal successo probabilmente anche questo sarà coronato dal successo ma dobbiamo raggiungere un accordo spero che lo lascerete uscire signor presidente grazie voglio anche io che ritorni finalmente in patria sono assolutamente sincero ma lasciatemelo dire ancora una volta il dialogo continua quanto più rendiamo pubbliche cose di questa natura tanto più difficile diventa risolverle tutto deve essere fatto con calma mi chiedo se questo sia vero anche con la guerra però voglio dire immagino di voler fare un'altra domanda che è e forse non vuole dirlo per ragioni strategiche ma è preoccupato che quello che sta succedendo in Ucraina potrebbe portare a qualcosa di molto più grande e molto più orribile e quanto è motivato a chiamare il governo degli Stati Uniti e dire veniamo a patti ho già detto che non ci siamo rifiutati di parlare siamo disposti a negoziare è il lato occidentale e l'Ucraina è ovviamente uno stato satellite degli Stati Uniti è evidente non voglio che lei la prenda come se stessi cercando una parola forte o un insulto ma capiamo entrambi cosa sta succedendo il sostegno finanziario pari a 72 miliardi di dollari è stato fornito al secondo posto si colloca la Germania poi seguono gli altri paesi europei decine di miliardi di dollari vanno all'Ucraina c'è un enorme afflusso di armi in questo caso bisognerebbe dire all'attuale leadership ucraina di fermarsi e di sedersi al tavolo delle trattative revocando questo assurdo decreto non abbiamo rifiutato beh certo l'ha già detto non pensavo che lo intendesse come un insulto perché ha già detto correttamente che è stato riferito che all'Ucraina è stato impedito di negoziare una soluzione di pace dall'ex primo ministro britannico che agisce per conto dell'amministrazione Biden naturalmente è un nostro satellite i grandi paesi controllano i piccoli paesi non è una novità ed è per questo che ho chiesto di trattare direttamente con l'amministrazione Biden che prende queste decisioni e non con il presidente Zelensky dell'Ucraina ebbene se l'amministrazione Zelensky in Ucraina si è rifiutata di negoziare presumo che lo abbia fatto su istruzione di Washington se Washington crede che sia una decisione sbagliata la abbandoni trovi una scusa delicata per non insultare nessuno trovi una via d'uscita non siamo stati noi a prendere questa decisione sono stati loro quindi lasciamoli tornare indietro tuttavia hanno preso la decisione sbagliata e ora noi dovremmo cercare una via d'uscita da questa situazione per correggere i loro errori si correggano da soli quindi voglio solo assicurarmi di non fraintendere ciò che sta dicendo vorrebbe una soluzione negoziale per ciò che sta accadendo in Ucraina giusto e ce l'avevamo fatta abbiamo preparato a Istanbul un enorme documento che è stato siglato dal capo della delegazione ucraina ha apposto la sua firma su alcuni provvedimenti non su tutti ha messo la sua firma e poi lui stesso ha detto che il primo ministro britannico li ha impedito di firmarli so che si può dire che è un nostro errore siamo stati noi a intensificare la situazione e a decidere di porre fine alla guerra iniziata nel 2014 nel Donbass come ho già detto con le armi vorrei tornare più indietro nella storia l'ho già detto ne stavamo giusto discutendo torniamo al 1991 quando ci fu promesso che la Nato non sarebbe stata ampliata al 2008 quando si aprirono le porte alla Nato alla dichiarazione di sovranità statale dell'Ucraina che dichiarava l'Ucraina uno stato neutrale torniamo al fatto che le basi militari della Nato e degli Stati Uniti hanno cominciato ad apparire sul territorio dell'Ucraina creando per noi una minaccia torniamo al colpo di stato in Ucraina del 2014 ma è inutile non è vero? potremmo andare avanti e indietro all'infinito ma hanno interrotto le trattative è un errore? sì correggilo siamo pronti cos'altro è necessario? pensa che sia troppo umiliante a questo punto per la Nato accettare il controllo russo di quello che due anni fa era territorio ucraino? ho detto che pensino a come farlo con dignità ci sono opzioni se c'è una volontà finora c'è stato un tumulto e un grido di infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia ora a quanto pare si stanno rendendo conto che è difficile da raggiungere se non addirittura impossibile secondo me è impossibile per definizione non accadrà mai mi sembra che ora anche coloro che detengono il potere in occidente se ne siano resi conto se è così se la realizzazione è avvenuta devono pensare a cosa fare dopo siamo pronti per questo dialogo sareste disposti a dire congratulazioni Nato hai vinto e mantenere la situazione dov'è adesso sapete si tratta di negoziati che nessuno è disposto a condurre o per essere più precisi sono disposti ma non sanno come farlo so che lo vogliono non solo lo vedo ma so che lo vogliono ma fanno fatica a capire come farlo hanno portato la situazione al punto in cui siamo non siamo stati noi a farlo sono i nostri partner e i nostri avversari a farlo bene ora lasciamo che pensino a come invertire la situazione non siamo contrari sarebbe divertente se non fosse così triste questa mobilitazione infinita in Ucraina l'isteria i problemi interni prima o poi tutto porterà ad un accordo sapete forse vi sembrerà strano data la situazione attuale ma i rapporti tra i due popoli verranno comunque ricostruiti ci vorrà molto tempo ma guariranno le farò degli esempi molto insoliti c'è un combattimento sul campo di battaglia ecco un esempio specifico i soldati ucraini sono stati circondati questo è un esempio tratto dalla vita reale i nostri soldati gridavano loro non avete possibilità arrendetevi venite fuori e rimarrete vivi all'improvviso i soldati ucraini gridarono da lì in russo perfetto russo dicendo i russi non si arrendono e sono morti tutti si identificano ancora come russi ciò che sta accadendo è in una certa misura un elemento di una guerra civile tutti in occidente pensano che il popolo russo sia diviso da sempre dalle ostilità no si riuniranno l'unità è ancora lì perché le autorità ucraine stanno smantellando la chiesa ortodossa ucraina perché unisce non solo il territorio unisce le nostre anime nessuno potrà separare l'anima terminiamo qui o c'è altro? terminiamo pure grazie signor presidente